Perciò iniziamo dai 55 anni, ma siccome... Allora, purtroppo un ordine alfabetico mi tocca, dalla Pozza Silvia a Fiorati Metti, 55 anni di matrimonio. Vai Silvio, vai Silvio, e signora. Ti devo panchettare papà, dai. È proprio il primo io. Eh, in ordine alfabetico sei caduto a fagiolo. Ok, niente, dai un bacino alla figlia. La figlia che parla, penso che la figlia è un figlio di tutti voi, è per dire che veramente senza di voi noi non siamo niente. Perché voi veramente siete il sostegno di ognuno di noi, eh, della vostra famiglia, dei vostri figli. Per quello continuate così, eh. Fiorese Franco e Cabretti Vana. Applausi. Grazie. Grazie. Fiori. Abbiamo lo speaker. Melle Galco, Giovanni Martignone, Carolina Santina. Non è vero che sei vecchia. Grazie cara. Prego. Grazie. Prego. Giovanni. Continuate così. Ecco. Qua cado sempre a pagiolo perché 55 anni fa si sono sposati lo stesso giorno. Orlandi, Francesco e Pellicer Maria Pisa. 55 anni. Portati splendidamente. Non sembra. Non c'ero 55 anni fa. Sono arrivata dopo. Congratulazioni. Passiamo ai 50. Berna, Enrico e Colombo, Anna. Quindi devo dire che era già intenzione dell'amministrazione festeggiare gli anniversari, ma loro hanno particolarmente insistito per farlo. Giusto? Sì, giusto. Ecco. E quindi abbiamo detto, sì dai, iniziamo quest'anno. Grazie. Grazie. Buongiorno Lucio e Restel di Franca. 50 anni. Signor Sindaco, è la prima volta qui. Che piacere. Grazie per la bella festa. Prego. Dovere. Dovere. Complimenti. Ecco qua, il mio ex della protezione civile, giusto, Cogo Mario e Celidoni Maria Ludigia. Ex protezione civile, ma sempre attivo. Vero? Come nonno, come tutto. Grazie, eh. Deligia Giuseppe Fannigina. Congratulazioni. Spero che vi faccia piacere. Grazie. Ecco qua, il mio amico della canonica Cesare e per Gonzi Maria. Sì, ma le strade diverse poi si congiungono. Sì, ma le strade diverse poi si congiungono. Ha già preparato. Benzoni, correggo. Tanto non lo stanno nessuno. No, ma mi sta che l'ho letto male io. Insieme, visto? Ecco. Maltese, Ignazio, Gramignano, Giuseppa. Che festeggeranno prossimamente anche con Don Daniele, giusto? Sì. Domenica pross. No, Don Pese pross. 23. 23, fra due settimane, giusto? Grazie. 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 Congraturazioni. Grazie. Prego. Marcolato, Luciana e Girardini, Marta. Pazienza. Non te lo do. Cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo di capirci. Ah, così. Congraturazioni. Martignoni, tanto io e lui ti chiamo sempre. Martignoni, buon'albi, gioia, Maria. Grazie. Grazie. No, vi faccio. Baccio il proprio piede. No, si direi mi scampi. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Potrà cambiare. Ha, ha, ha. Orlandi, Antonio e Stocco Maria Rosaria. Ecco, ci puoi. Congraturazioni ancora, eh, grazie. Allora, adesso passiamo ai 45 anni, 45. Speroni, Gianchiero e Scandronio, Britta. Congraturazioni. Congraturazioni. Spero vi faccia piacere. Grazie. 25 anni. C'è proprio il salto adesso. Perché il salto? Eh, non mi guarda è strano. Tu era Claudio? No. Ah no, lo tolgo. Perché il fratello è là, quella che fa 25 anni, ma il marito è andato a lavorare stamattina, purtroppo. Quindi passiamo a Frigini, Massimiliano e Maccalli Teresa. Vabbè, Monica, e che te fa 25 anni? Sì. Piacere. Piacere. Oh, grazie. 20 anni. Corò Roberto e Santomella Bagnoletti. Il primo nome è arrivato. Congraturazioni. Grazie. Grazie. Anche perché ti ho visto che stavi lavorando stamattina, eh? Sì. Lentini, Viborio e Passante Giuseppina. Assamonte, giusto? Scusate. Grazie. Complimenti comunque. Grazie. 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 Orlandi, Giovanni e Fanni Cristina. Grazie. Grazie. Loro arrivano mano nella mano, vedi? Da sempre. No, 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 grazie a te. Grazie. Dall'età di 16 anni che stiamo insieme. Bellissimo. Bellissimo. Infatti, hanno ancora il mio. Da me è fatto la piaglia di Fabio e da Lu Giuseppina, la nostra insegnante della Giante Giuseppina. Giusto? Sì. Eh? Sì, sì. Congratulazioni. Allora, adesso passiamo ai 15 anni, il matrimonio. Dov'è il mio carabiniere? Vaderi Giovanni e Bressa Raffaella. Mi sei bella, mi sei bella. Grazie. Olicarpo, Antonello, Marinelli, Deborah. Con calma. C'è i tacchi. C'è, c'è. Non è scappato. Vabbè, vado a mettere a parte. Infatti. Grazie, Clara. Prego. Grazie. Auguri ancora. Grazie. Passiamo ai 10. Mesiti Pasquale e Pecora Tiziana. Ecco di qua. Che bello, tutti insieme, tutti e quattro. Dieci anni di matrimonio, stupendi. Con due gioielli. Auguri. Auguri tanti, eh. Prego. Ciao. Quando hai la foto con Maria? Faccia? E faccia la foto con Maria. Ecco. Il ragazzo che per colpa sua ha rischiato di non sposarmi più. Santomenna Stefano e Colombo Daniela. Tu la sai, Daniela, quella è la storia. La storia, la sappiamo. Però è diventata negli anni anni, divertente. Ma no, ha portato perché è sposa fortunata. Sposa bagnata. Sposa bagnata, sposa fortunata. Te l'ho fatto per te. Mi hai rovinato? Sto scherzando. Ti bacio. Sto scherzando. Congratulazioni. Grazie. Bellissime anche loro, noi quattro. Cinque anni di matrimonio. Martino, Luca e Boncristiano, Alessia. Una famiglia che tra poco si allarga. Speriamo in fretta. Speriamo in fretta. No, dai. Manca foto. Speriamo in fretta. Facciamo la foto. Fai la foto. Dai, fai la foto. Guarda se ma non fa la foto. No, scherzo. Vieni qui. Scherzo. No, dai. Grazie. 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 Allora, dopo di te manca Simonato Stefano e Garavaglia Maria Simona. Allora, quinto anniversario anche loro di matrimonio, ok? Famiglia bellissima, quattro, ok? A vostra. Ne manca uno che mi è rimasto in su, colpa mia, adesso arriva. Ok, due secondi. Ok, arriva. Per il momento vi piace questa cosa fatta al braccio? Brava!